Allora, benvenuti. Allora, l'arte, la musica e... Parlarei? Parlarei? Ah, va bene. Allora, nome? Erika, Erika. Buonasera. Allora, che cosa significa per voi? Naurare come belle. A volte è complicato, no? Ma in questo caso si deve fare proprio con il stato nuovo. Siamo un nuovo nella vita anche. E quello è complicato da vent'anni. Cioè è complicato con i sentimenti e passioni. No, quello è facile in realtà. Quello ci dà tanta tanta forza. Perché siamo molto simili caratterialmente. Quindi scarichiamo ansie, paure, emozioni. Ne viviamo tutti insieme. Tipo l'emozione di salire qui su questo palco per questo premio, possiamo dire. per il quale ringraziamo il premio Vattane, il premio Vattane e il Mimo Falco che ci ha amorati per... Presidente, sì. Presidente Mimo Falco si parla di lei? Presidente, il Mimo Falco la stanno ringraziando dal palco, è impegnato. Presidente, grazie per averci... Per il prattocino. Abbiamo ricevuto il prattocino del Correpo per il nostro primo inedito che è uscito il maggio scorso e quindi questo premio arriva nel momento in cui andiamo avanti nel nostro percorso, nel percorso armonica e ci dà tanta tanta forza per andare avanti, per fare sempre meglio, per continuare a parlare di Napoli, perché è quello che facciamo delle nostre canzioni, dei nostri inediti. Rimaniamo ancora della nostra città, parliamo del bello e del brutto di Napoli. e noi speriamo di ascoltarli il prima possibile magari prossimamente su questo palco, su questo inedito. Quindi, premia armonica, premio campania 2019!